Vuoi creare NFT ma non sai nulla sul come fare? In questo video ti mostrerò come utilizzare ChatGPT per creare i tuoi NFT, che attualmente stanno diventando sempre più popolari come mezzo per la proprietà e la rappresentazione di beni digitali. Con ChatGPT infatti puoi prendere tantissimi spunti e creare lo smart contract della tua collezione NFT in modo semplice ed intuitivo. Per prima cosa ci richiamo sul sito di OpenAI che io vi lascio qui sotto in descrizione e una volta aperta questa pagina clicchiamo su Try e vi aprirà questa schermata, ovvero la schermata principale di ChatGPT. Per iniziare a fare delle domande basterà andare in questa sezione qui in basso e iniziare a scrivere. Visto che ChatGPT è un'intelligenza artificiale che ricorda la conversazione e i temi trattati in quella conversazione, inizierò semplicemente facendogli una domanda sul mondo degli NFT. Vediamo ora la sua risposta. Sì, conosco gli NFT, not fungible tokens. Sono token digitali unici che rappresentano beni digitali o fisici unici, come opere d'arte, musica, video, foto, beni immobili e così via. Gli NFT vengono memorizzati su una blockchain, il che li rende unici e immutabili e possono essere venduti e acquistati come beni rari digitali. E come descrizione generale ci siamo anche. Adesso però devo chiedere una cosa molto importante a ChatGPT. ChatGPT può sostituire un programmatore nella creazione degli NFT? Qui devo aprire una parentesi, perché proprio come specificato dai creatori stessi di ChatGPT, questo strumento può incorrere ogni tanto in errori. Quindi se volete lanciare seriamente un progetto NFT, affidatevi ad un professionista e non prendete per oro colato tutto quello che dice ChatGPT. Perché se voleste poi fare delle modifiche a qualcosa, non ne sareste in grado. E adesso che ho fatto questa precisazione, secondo me molto importante, possiamo andare avanti con il video. Infatti adesso chiederò a ChatGPT se può creare una collezione NFT. Ed ecco che già alla terza domanda incappiamo in qualche problemino. Ma questo non perché ChatGPT non ci possa aiutare nella creazione NFT, ma perché la mia domanda è stata posta in modo molto vago. Quindi ChatGPT non sa come portare avanti la mia richiesta. Vediamo adesso come ci risponde. Puoi creare titolo e descrizione per la mia collezione NFT basata su dei dinosauri volanti nello spazio? Crea una descrizione sensazionale incentrata su tutti i benefits della collezione. Ed ecco qui la risposta che ci viene fornita da ChatGPT. Adesso che a voi o a me possa piacere o non piacere, questo è un altro conto. Però vediamo come effettivamente ha risposto alla nostra domanda e come posso fargli prendere questi due dati, ovvero il titolo e la descrizione, per fargli creare lo smart contract di una collezione NFT. E a proposito di NFT, se non vuoi perderti nulla inerente a questo mondo, non dimenticarti di iscriverti al mio canale, perché qui troverai tutto quello di cui hai bisogno. E quindi andiamo un po' nel tecnico. Usa questo titolo e questa descrizione per creare lo smart contract di una collezione NFT. In totale ci sono 10.000 pezzi e il prezzo di ogni NFT dovrà essere di 0.01 Ether. Decidi tu il simbolo della collezione basandoti sul titolo che hai creato. Per favore utilizza le librerie di Open Zeppeli. Quei per favore solamente per quando tra 10-20 anni le intelligenze artificiali prenderanno il possesso del mondo e io vorrei essere risparmiato possibilmente. Qui arriviamo a uno dei più grandi problemi secondo me. Infatti chiedere a CiaGPT in italiano di farsi creare del codice non ci permette di essere molto specifici su quello che stiamo credendo. Infatti molto spesso la risposta sarà negativa. Almeno questo secondo la mia esperienza. Quindi ho provato a prendere quello che avevo già scritto in italiano cambiando qualcosina l'ho tradotto in inglese e vediamo adesso come risponde. Ed ecco che come per la domanda in italiano ci dice di non poter creare uno smart contract per la collezione NFT. Però vediamo poi come sotto in realtà ci va a scrivere un pezzo di codice. Infatti partendo da qui da pragma solidity fino a questa ultima parentesi graffa è effettivamente un pezzo di codice. Però è strano che non l'abbia creato rispettando la formattazione del codice. Questo potrebbe dipendere in parte anche dalle domande che abbiamo già fatto precedentemente a CiaGPT. Infatti come dicevo prima CiaGPT ricorda la nostra conversazione dall'inizio alla fine. Provo quindi adesso a fare un'altra cosa. Copio questo che avevo già scritto in inglese vado qui sopra su New Chat e comincio una nuova conversazione però questa volta scrivendo direttamente se può crearmi questo smart contract. Ed ecco come senza avere tutto lo storico della conversazione precedente mi ha iniziato a creare lo smart contract per una collezione NFT. Questo è uno smart contract molto semplice però vediamo come l'ha appunto formattato in modo da essere conforme al linguaggio Solidity. Ovviamente io qui ho specificato di fare il nome, la descrizione e il simbolo basati su dinosauri volanti nello spazio però vediamo come il nome è effettivamente quello visto che gliel'ho specificato ma non avendo la conversazione precedente il simbolo non ce l'aveva nemmeno prima infatti se l'ha inventato ma la descrizione è completamente diversa da quella che ci aveva creato prima. Però vediamo adesso se questo codice effettivamente funziona. Quindi clicchiamo su copy code andiamo su remix.ethereum.org che io vi lascio qui sotto in descrizione e cliccate qui sulla cartella contracts. Se voi non avete mai utilizzato remix.ethereum troverete solamente questo storage.sol owner.sol e ballot.sol mentre gli altri sotto sono dei piccoli progetti che ho portato già su YouTube e che voi quindi non troverete. Per creare un nuovo file cliccate su questa icona create new file e la chiamate come volete. Io adesso lo chiamerò nft.sol mi raccomando il .sol è molto importante altrimenti non avrebbe l'estensione solidity e faccio ctrl v oppure command v se sono su Mac. E qui incappiamo in un problema infatti il compilatore di remix.ethereum ci dice che non trova questo https e tutto l'indirizzo di github che si rifà a una libreria di OpenZeppelin. Quindi provo a tornare su chat GPT e gli dico che questa libreria non viene trovata da remix.ethereum. e vediamo come ci trova un'alternativa alternativa che spero funzioni in questo caso. Infatti ci dà la libreria IRC721 sempre di OpenZeppelin che volendo vediamo è questa qui IRC721.sol invece di quella utilizzata precedentemente ovvero IRC721 mintable.sol come abbiamo fatto già prima clicchiamo su copy code prendiamo tutto quello che abbiamo già incollato lo eliminiamo e incolliamo un nuovo codice. Vediamo però come anche con questo codice ci sono dei problemi principalmente con le librerie quindi io torno di nuovo su chat GPT e gli ho fatto fare un nuovo codice Can you create a new one without using any library? Quindi gli ho fatto semplicemente creare uno smart contract senza basarsi su nessuna libreria. Adesso che l'ha creato clicco su copy code torno su remix ethereum cancello questa parte tranne qui sopra l'SPDX License Identifier Unlicensed che semplicemente non viene creato da chat GPT ma l'ho scritto io a mano una volta incollato il nuovo contratto vediamo come qui non c'è più la X rossa ma c'è un bel tick verde questo vuol dire che il contratto è stato compilato e non ci sono degli errori a me l'ha compilato in automatico perché io in questa schermata ho l'auto compile altrimenti voi da questa schermata una volta incollato il vostro codice dovete scendere qui sotto e cliccare compile nft.sol o come l'avete chiamato e adesso che l'abbiamo compilato possiamo cliccare qui sotto su questa icona e poi su remix vm vediamo come ci apre una lista dove c'è anche injected provider metamask noi clicchiamo su questa scritta e a me in questo caso si è connesso automaticamente al mio metamask più precisamente alla rete Goerly se per voi è la prima volta semplicemente vi aprirà metamask e vi chiederà di approvare il collegamento a questo sito web vediamo come appunto è connesso alla testnet di Goerly quindi se anche voi voleste fare una prova utilizzando appunto questa testnet dovrete recarvi nel vostro metamask copiare il vostro indirizzo e se non l'avete mai utilizzato e quindi non avete altri Goerly eth dovrete recarvi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione dove c'è il Goerly fauciat inserire qui in questo campo il vostro indirizzo e poi cliccare su send me eth vediamo come tutto è andato a buon fine e in realtà in pochi secondi massimo un minuto dovrebbe arrivarvi tutto sul vostro account vediamo come infatti già aprendolo adesso sono 0.51 Goerly eth quindi non ethereum reali ma solamente validi per questa testnet ok adesso scendo qui sotto dove c'è il tastino deploy e lo clicco vediamo come si apre questo pop up di metamask che mi chiede di depositare il contratto io clicco su conferma e tempo qualche secondo il contratto verrà depositato in blockchain ecco che mi appare il pop up del mio browser ma anche qui sotto appare questo tick verde che ci fa sapere che la transazione è andata a buon fine infatti adesso qui sotto in deployed contracts vediamo dinosaur nft e vediamo il suo indirizzo clicchiamo su questa freccettina ed ecco tutte le funzioni che possiamo utilizzare nel nostro smart contract in particolare quella rossa e quella arancione sono tutte funzioni di write quindi funzioni che vanno a cambiare le informazioni nella blockchain e infatti sono quelle transazioni che ci costano delle gas fees mentre queste in blu sono tutte le funzioni di read quelle che possiamo fare tranquillamente anche sui block explorer come etherscan e che non costano nessuna gas fee se adesso infatti clicchiamo qui sotto su total supply vediamo come appunto esce zero perché nessun nft è stato aumentato e oltre questa total supply possiamo vedere anche il simbolo che è dvns come vediamo anche qui sotto la scritta simbol il nome della collezione eccolo qui dinosauri volanti nello spazio e description vediamo a unique nft representing a flying dinosaur in space una descrizione molto blanda però effettivamente tutto funziona come dovrebbe e adesso che hai imparato come creare nft con chat gpt anche tu potrai fare delle prove nelle test net e vedere cosa riesci a realizzare e non dimenticarti di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video in materia di nft e nel frattempo continuo ad esplorare il futuro della tecnologia noi ci vediamo alla prossima ciao